ciao a tutti se avete visto qualche giorno fa questo orologio sul nostro canale youtube vi avevo fatto vedere come ero riuscita a realizzarlo utilizzando una tavoletta a forma di casetta con la pirografia ho fatto un bel lavoro ora vi farò vedere invece una scritta in particolare un nome fatto su una bassa lingua in legno allora dalla carta l'ho trasferito con la carta carbone sul legno utilizzo un pirografo con la regolazione della temperatura e le punte a filo come questo che vedete userò una punta piatta perché mi trovo bene per fare bene le rifiniture ecco questo il pirografo lo accendo la temperatura abbastanza bassa perché si tratta di un legno dolce con la punta piatta e comincio a fare questo nome ciao a tutti 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 ecco fatto il nome è quasi terminato è un pensierino è un pensierino può essere utilizzato come segnalibro molto semplice in cinque minuti si realizza spero che vi sia piaciuto se volete approfondire o imparare a pirografare vi consiglio il libro vi consiglio il libro la tecnica della pirografia che ho scritto quest'estate ha un costo contenuto di 10 euro lo trovate sul nostro sito o anche nelle librerie grazie a tutti continuate a seguirci iscrivendovi al nostro canale youtube elettronica didattica e visitate il nostro sito elettronica didattica.com sul quale troverete pirografi e accessori per la pirografia ciao alla prossima